E ultime notizie bomba sui rossoneri vi faranno cadere all'indietro per quanto è stato annunciato, ma prima di parlarvene voglio che vi piaccia per avere tutte le ultime notizie sul Milan. L'ex centrocampista Valon Berami ha esortato il Milan a ingaggiare Mauro Icardi quest'estate, ritenendo che possa essere l'attaccante in grado di far crollare l'Inter. Durante il post-partita della vittoria del Milan sulla Fiorentina di sabato sera, nella trasmissione di Dazon si è parlato di chi potrebbe essere l'attaccante titolare del Milan nella prossima stagione, visto che Olivier Giraud potrebbe lasciare il club. L'ex centrocampista della Fiorentina Berami ha espresso chiaramente il suo pensiero in studio, implorando i rossoneri di riportare Icardi in Serie A dopo che qualche anno fa ha scambiato l'Inter con il Paris Saint-Germain. Se dovete cercare una squadra anti-Inter in futuro, la vedrete a Milano. Con questo allenatore e con l'aggiunta di due a tre giocatori. Oggettivamente sono quelli che, rispetto all'Inter, hanno meno differenza rispetto agli altri, ha detto, via pianeta Milan. Al dibattito hanno preso parte anche Emanuele Giaccherini, Marco Parolo e Alessandro Matri, il resto è stato così. Berami, Icardi tornerebbe volentieri a Milano e sarebbe il capocannoniere del Milan, batterebbe Lautaro. Icardi ha una personalità pazzesca, è molto freddo e le responsabilità non gli pesano mai, anche se è sempre stato criticato molto. È un giocatore straordinario. Giaccherini, il Milan ha bisogno di un attaccante che faccia almeno 15 gol, e Zizzi per me non lo è. Ora tocca a voi, se pensate che sia un buon affare, fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan.